Ciao e benvenuti nuovamente in questo canale in cui parlo di magia ai tempi della filosofia e della Ferragni e di Instagram, ai tempi di Instagram. Allora, sono qui con la sireneta dai capelli cilestri, cilestrini che mi sussurrano orecchio Re maggioruto, dovresti parlare di certe cose che a te sembrano banali, così secondarie, elementari, invece sono molto importanti e la gente interessano, dai dai parlane, parlane. Allora, do ascolto alla sireneta dai capelli cilestri, come ho dato tante volte, ascolto ad altre creaturine che mi ruotano attorno, perché effettivamente ci sono alcuni argomenti che a me sembrano banali, ma questo dipende dal fatto che io facendo tanti temi natali, avendo studiato la storia da tanto tempo, per me possono sembrare secondari, però quando dico elementare, attenzione, non sto dicendo sciocco o qualcosa di stupido, assolutamente no, anzi direi quasi il contrario, perché effettivamente ciò che noi impariamo nelle scuole elementari sono le cose più importanti. Quindi se non impariamo l'ortografia, a coniugare i verbi, a scrivere in modo corretto, a parlare in modo corretto, non potremo da adulti leggere libri importanti, leggere libri complessi o parlare nel modo adeguato, o ragionare su tantissimi argomenti nel migliore dei modi. Quindi ciò che elementare è fondamentale e va capito, va imparato. Quindi effettivamente è giusto andare a toccare dei temi, e sono contento di farlo, che interessano le persone. Ora, come faccio a sapere che cosa interessa le persone? Non tanto leggendo cosa mi scrivete qui, perché vedo che qua in YouTube mi si fanno domande o si dicono delle cose fondamentalmente, diciamo, intelligenti o di livello abbastanza alto, anzi ultimamente mi è stata fatta anche una domanda che esorbita abbastanza dalla semplicità e dall'elementare, prima o poi dovrò affrontarla, ma forse più là quando avrò capito anch'io come rispondere. Soprattutto guardo un sito, questo è molto interessante, guardo un sito in Facebook dove si parla di astrologia e interviene tantissima gente. Il sito in sé, diciamo, al 90% può essere anche molto debole, anche molto sciocco, ci sono veramente tantissime sciocchezze all'interno di questo sito, gente che si lamenta e dice quel segno lì, a voi piace, no? È stupido, i gemelli sono tutti infidi, cose di questo genere. Sono tutti dei cialtroni, oppure quell'altro segno non mi piace, oppure vado da cosa pensate, succederà con questo mio ragazzo. Insomma, vabbè, anche questa è una domanda lecita, naturalmente come andrà... però ci sono tante cose veramente sciocche. Tuttavia ci sono anche cose interessanti, soprattutto è interessante vedere come si ripetono certe domande, che sono sempre le stesse. Evidentemente non c'è un punto di riferimento chiaro dove tutti possono andare a vedere e trovare risposta a certe domande. Io la mia parte la faccio, però naturalmente non tutti guardano il mio canale. Per esempio, una domanda che ricorre costantemente, per esempio, è quella delle cuspidi, le famose cuspidi. Non so bene perché, però c'è questa mania delle cuspidi. Io ho fatto un video, lo trovate qua in YouTube, sulle cuspidi. C'è chi dice, io sono nato a cavallo fra i gemelli e il cancro e quindi di che segno sono. Allora, lo ripeto velocemente, non si può stare a cavallo fra i due segni. Non esiste sia di un segno oppure dell'altro. È un fatto digitale. Allora, io sono in questa stanza e in questa stanza è un segno e sono di questo segno. Poi è vero però che l'altro segno non è che sia indifferente. Questo l'ho spiegato nel video. Adesso qui non approfondisco troppo, però insomma è questo il senso. L'altro segno è quello che c'è dietro la finestra, i colori che vedi dalla tua finestra, i rumori della città sotto, dalla strada, la gente, i rumori, gli odori, tutto quello che ti arriva dall'esterno è un clima, un'atmosfera che riempie anche la tua stanza. È un clima, è un'atmosfera. Bisogna capire questa sfumatura. L'astrologia è anche poesia. Non va capita in un modo puramente tecnico. Uno pensa, ah, sono a cavallo, quindi sono di tutti e due i segni. Non è, allora, in questo caso, ripeto, è digitale, ma c'è anche questo aspetto dell'atmosfera. Bisogna distinguere. E ripeto, l'astrologia è anche poesia. Bisogna essere anche un po' dei poeti per essere degli astrologi. Bisogna capire i simboli. È molto importante l'aspetto astro-trettino-logico. Non basta la semplice ragione, il semplice aspetto calcolante del nostro pensiero. Il pensiero calcolante. Un'altra cosa che viene molto tirata in ballo è il segno l'ascendente. E su questa cosa c'è veramente tantissima confusione. La cosa più ricorrente, che io leggo, soprattutto in questo sito, ma questo dipende in particolare da una persona, adesso non è che voglio accusare quella, però vedo che continuamente... Ma però tante persone pensano così. Che cosa? Che il segno è secondario rispetto all'ascendente. Cioè che l'ascendente è la cosa più appariscente. Anche su questo ho fatto un video. Quindi potete andare a cercarlo. Allora, ripeto qui velocemente. Cos'è la parte che appare di più dell'individuo, quella che si vede subito? È il segno. Ma questo è astro-logico. Perché il segno è là dove c'è il Sole. Il Sole alle spalle è una certa costellazione, che è il tuo segno, se è del cancro. Alle spalle del Sole c'è il cancro e quindi il Sole ti illumina. Da un punto di vista astronomico non è esattamente così. Non c'è quella costellazione. È vero e falso? È vero in realtà, da un punto di vista degli equinozi e dei solstizi, ma adesso non sto qui ad approfondire. Non è questa una cosa importante. Ma semplifichiamo dicendo che il segno, in ogni caso, questo è vero, dipende dal Sole. Il Sole illumina. Cos'altro illumina in questo sistema solare se non il Sole? Quindi sotto il faro, il coro di luce, i riflettori del Sole, nel cerchio di luce del Sole, tu vai in scena e quella è la parte che si vede subito di te. Mentre l'ascendente, che cos'è? Non è neppure un pianeta, non è un corpo solido. È un punto virtuale, fittizio, astronomico. È la costellazione che sorge dal magico oriente, ad est, quando tu nasci, tagliata dall'orizzonte. Quel taglio è l'ascendente, è la parte nascosta, è il motore, è il motore nascosto, è la parte dietro le quinte dell'individuo. Ma è chiaro, da un punto di vista simbolico, astrologico, qui torno a dire, bisogna essere un po' poetici, bisogna capire bene i simboli. È molto semplice. E quella parte è la radice, l'ascendente, mentre il segno è la chioma. Ci sono quelli che capovolgono, mettono la chioma, che poi è la parte, evidentemente, che sta nella luce, che dipende dalla luce fotosintesi clorofiliana, come la quale produce la chioma, il glucosio per l'albero, viene messa sottoterra, praticamente, capovolta. No, quella è la parte nascosta. Quindi soffoca la pianta, la uccide. E le radici per aria, così. Tutto capovolto. Un casino, ragazzi. Oppure, c'è chi dice, fa delle domande, per esempio in questo sito che tante volte io leggo, ma l'ascendente inizierà ad esprimersi a partire dai miei 30 anni, 40 anni, cose così. Anche queste cose sono delle domande veramente molto strane. L'ascendente, il segno, ci sono sempre. Dall'inizio sono due pilastri, sono due binari paralleli che partono dalla stazione insieme a valori per tutta la vita. Vabbè, di questo ho parlato già in un video. Però lo ripeto così velocemente perché, diciamo, non mi stancherò mai di ripetere certe cose. E poi ci sono tanti altri temi. Per esempio, i famosi pianeti retrogradi, dico così con questo tono, un po' così, i pianeti retrogradi perché fanno paura. Non devono fare paura. Semmai ne parlerò un'altra volta. Allora, invece, in questo caso, sul suggerimento della sireneta dai capelli cilestrini, voglio parlarvi dei segni vuoti, cosiddetti vuoti. Cosiddetti e veramente vuoti, nel senso che nel tema natale tu hai dei segni e delle case, delle case che sono vuote. Allora, parto dal presupposto anche tenendo conto dell'insieme segno e casa, no? C'è una casa dove c'è un segno e quella casa, quel segno sono vuoti. Parto dal presupposto che sappiate cosa sono le case, che sono in ogni caso i settori della vita, i settori della vita sono dodici, sono relazionati ai segni in un modo cronologico tranquillo. La prima casa, per esempio, è quella dell'Ariete, cosignificante, si dice così in astrologia dell'Ariete, cioè ha una struttura che rimanda all'Ariete, la seconda casa è relazionata al toro, eccetera, eccetera. Ogni casa ha un suo significato. Bene o male, ne ho sempre parlato. Forse farò un video... Non ho mai fatto un video puro sulle case. Forse una volta parlerò proprio delle case, proprio in un modo... solo delle case così in senso proprio puro, senza introdurre nient'altro. Comunque ci sono questi settori importantissimi. Allora, i settori, le case, i segni fanno veramente la struttura della nostra personalità. Poi naturalmente ci vogliono i pianeti messi dentro. I pianeti quali sono? Beh, è quelli qua. Sono dieci, sì, sono dieci quelli che noi conosciamo meglio, che conosciamo veramente, sappiamo la traiettoria, possiamo cercarli nell'effemeridi. Mancano due pianeti qua, dal mio punto di vista, dal punto di vista di Lisa Morpurgo, sulla quale io pure mi baso, manca X e Y. Allora, di questi pianeti ho parlato varie volte, anche quando ho parlato della struttura dei segni, li ho tirati in ballo. Ora, X e Y sono pianeti misteriosi, qualcuno fa delle ipotesi su X in particolare, potrebbe essere quel corpo lì, i corpi là fuori, ce ne sono a Yos, ce ne sono tantissimi, ma non è chiaro. Finché non sarà veramente assodato, chiarissimo qual è il pianeta, è inutile stare a fare troppe... insomma, a fare... a immaginarsi troppe cose. Adesso non lo sappiamo. Comunque, esistono da un punto di vista strutturale. Tenete conto del fatto che, allora, che tutti questi li chiamiamo pianeti, anche il sole e la luna, non perché l'astrologo sia stupido e pensi che il sole sia un pianeta, oppure la luna, no, per un fatto terminologico, barra, soprattutto concettuale. Perché l'astrologia è geocentrica. L'astrologo guarda il display del cielo, lo zodiaco, guarda questo display, guarda questo cinema, guarda questo schermo, e vede questi corpi che si muovono, tra cui c'è anche il sole e la luna. E pianeta significa etimologicamente corpo che si muove. E quindi tutti questi corpi sono tutti sullo stesso piano, da un punto di vista astrologico. Naturalmente ci sono altri punti di vista. C'è il punto di vista scientifico, quello reale, egliocentrico, se usciamo dal sistema solare e guardiamo le cose da lontano, tutti i pianeti ruotano, torno al sole, ma questo naturalmente lo sappiamo benissimo. Ma questo punto di vista, geocentrico, diciamo antico, addirittura superato, obsoleto, non vale meno. Perché vedete che nell'astrologia funziona ancora. Funziona ancora. Anzi, se non pensassimo le cose in questo modo, non funzionerebbe. Questo sta a significare che la soggettività, visto che l'astrologia ha un valore soggettivo, perché vediamo tutto dalla Terra, dal nostro punto di vista, la soggettività ha un grandissimo valore, un grandissimo peso. Non bisogna trascurarla. Quindi, i pianeti sono questi, più x e y, di cui non sappiamo l'orbita, non sappiamo esattamente a che corpi attribuirli, esattamente, astronomici. Allora, i pianeti, i pianeti. Allora, Elisa Murturco, tra l'altro, tra parentesi, aveva scoperto questi pianeti, e apro qui una parentesi, una nuova parentesi, dicendo un'altra cosa. Ci sono tante persone che mi chiedono, ma se io voglio imparare l'astrologia, che cosa devo studiare? Allora, io vi raccomando, in particolare, di leggere i manuali di Elisa Murturco, i primi che ha scritto, e di non andare troppo oltre. Leggere i primi tre manuali che ha scritto e basta. Perché poi ha preso una piega un po' strana, cioè un po' vagamente impazzita, cioè ha preso un po' la tangente, è andata, si è arrampicata su di specchi, si è inventata un sacco di cose strane, che possono anche essere vere, tutto quello che volete, ma sapete, anche nell'astrologia ci sono un sacco di congetture. È interessante quante teorie diverse continuino a fiorire, no? All'interno dell'astrologia, ma naturalmente è un tema interessante, ma come in tutto, la filosofia, la scienza, ma è normale, non c'è niente di male. Però, se volete capire, se volete capire davvero le cose, se cercate di capire troppo e prendere tutto, alla fine non capite più niente. È questo che vi dico. Invece bisogna cercare di scoprire cosa sono i punti fermi, solidi, concreti, tangibili, e che possono veramente servire per capire in un modo diretto. Ora, quello che vi sto dicendo io non dipende da un fatto teorico, dipende da un fatto pratico. Io, in fondo, ho poca teoria, anzi, ce ne ho tanta, in realtà, alla fine, ma sono partito da una teoria basica e poi soprattutto sono stato sul campo da gioco. Cioè, è come un calciatore che fa degli esercizi, che gioca un po' a calcio, all'inizio un bambino gioca così, a un certo punto, ma il calciatore dov'è che impara veramente a giocare fino in fondo? Beh, impara stando sul campo da gioco. Ha un allenatore che vede gli schemi, ma lui, in quanto calciatore, impara veramente sul campo da gioco. E' lì che succedono le cose. In astrologia è la stessa cosa. Bisogna imparare quello che c'è da imparare e poi bisogna fare molti temi natali. Bisogna guardare i temi natali. E' lì che impari veramente. Quindi, le cose che io vi dico sono basate non su un fatto teorico così astratto. Anche, naturalmente, c'è un ragionamento, una riflessione che c'è sempre tra il tema natale, la propria testa, l'aspetto teorico, quello che sai già, quello che hai imparato dai manuali. Ma c'è soprattutto vedere le persone e confrontare tanti temi natali. Questo ve lo dico per dirvi che ciò che vi dico io non è astratto. Quindi, io vi consiglio di leggere la prima Lisa Morpurgo e di non andare troppo oltre. Perché poi ha preso una piega un po' strana. Questo succede a tutti i geni. Lisa Morpurgo è stato un genio perché ha trovato in particolare certe strutture eccezionali. Ma tutti i geni prendono pieghe strane. Pensiamo ad Einstein, per esempio, che aveva ad un certo punto della sua vita fatto un esperimento mentale, lui feceva esperimenti mentali, non metteva le mani, lui era scherzioso, scherzo, ma non metteva le mani nelle cose e pensava a tutto. Aveva capito delle cose sull'effetto fotoelettrico. Aveva capito l'esistenza dei quanti, i famosi quanti, quelli della fisica quantistica. Cioè, aveva capito che l'onda elettromagnetica, cioè la luce, in questo caso, non era solo un'onda, ma era anche fatta di pacchetti energetici. E questo è la base della fisica quantistica, un concetto della fisica quantistica. Lui sarebbe potuto diventare il padre della fisica quantistica, invece non l'è diventato perché poi ha deciso che questa cosa non stava in piedi perché lui dopo tutto era un uomo vecchio stampo, ragionava in un modo antico, dopo tutto, nonostante fosse un genio, è così, aveva, pensava in un modo, il suo pensiero era calcolante, aveva una ragione forte e per vent'anni della sua vita fino alla fine, della sua vita fino alla morte ha combattuto contro la fisica quantistica. La fisica quantistica funziona perfettamente, se no non esisterebbe il CERN, starebbero lì a fare nulla e lì ci si basa sulla fisica quantistica per studiare il mondo subatomico, per cercare di capire come è fatta la materia e qual è l'origine dell'universo. Questo per dirvi che i geni a un certo punto prendono una piega strana. Heidegger, Heidegger ha scritto essere tempo, fondamentale, Heidegger, non c'è filosofo contemporaneo che possa prescindere dal pensiero di Heidegger, non esiste. C'è la filosofia che va da Platone, Socrate fino a Nietzsche e poi c'è Nietzsche e Heidegger, questi due pilastri fondamentali, questi due elementi filosofi e da lì cambia tutta la filosofia. Heidegger ha gettato una luce importantissima su tutto quello che c'è stato nel passato. Vi ripeto, nessuno può prescindere da Heidegger. Heidegger però poi ha scritto delle cose, sono saltati fuori questi famosi quaderni neri in cui salta fuori un po' più sul lato nazista, in cui parla male degli ebrei, in cui poi dimostra filosoficamente, cioè tenta di dimostrare filosoficamente il fatto che gli ebrei sono malsani per certi motivi suoi e quindi viene fuori un lato un po' malato. D'altra parte, in un altro modo completamente diverso, che probabilmente, cioè non è colpa sua, Nietzsche è impazzito, probabilmente non è impazzito perché aveva dei pensieri pazzi, come tanti pensano, era un pazzo e quindi è impazzito. No, è impazzito perché aveva una malattia, probabilmente aveva qualcosa di fisiologico ed è impazzito per motivi fisiologici. Vabbè, per dire che tutti alla fine prendono una certa piega, ricordiamoci che il meglio di se stessi lo si dà durante la gioventù. I ragazzi, tanto anche adesso tante volte disprezzati, ma gli adolescenti e poi fino ai 26 anni, 27, le persone danno il meglio di se stesse, hanno il cervello che gli funziona veramente nel migliore dei modi. E questo ce lo dice la neurologia. Le neuroscienze, studiando il cervello, si capisce che è lì che poi abbiamo le idee migliori. Questo ce lo dice anche l'astrologia, che Mercurio, che rappresenta l'adolescenza, la gioventù, durante l'adolescenza, che noi ci innamoriamo di certi pensieri e quei pensieri che noi sviluppiamo durante l'adolescenza li portiamo avanti per tutta la vita, poi li possiamo anche approfondire, migliorare, tutto quello che vogliamo, ma non avremo più quelle idee straordinarie che abbiamo avuto e quindi è finito. Se non ha trovato dei teoremi importantissimi prima dei 30 anni, poi non li trova più perché il cervello non ce la fa. E' così. Può dispiacere, ma le cose stanno in questo modo. Allora, questo per dire, per ritornare all'astrologia, leggete, eventualmente, se volete un consiglio, Lisa Morpurgo e fate tanti temi natali, guardate questo. Ora, come dicevo, allora, i pianeti sono fondamentali. I dieci pianeti, quelli che conosciamo, sono quelli di cui bisogna tenere conto. Questi pianeti sono come, pensando ad Einstein, la fisica quantistica, dei pacchetti energetici. Sono delle funzioni psicologiche, sono degli dei, sono dei pacchetti energetici. Allora, qui salta il principio di non contraddizione perché, chiaramente, per il nostro pensiero calcolante e per la ragione, per un astronomo è assurdo dire che Giove è un dio, ma perché mai dovrebbe essere un dio? Tra l'altro, ha quel nome lì, Giove, chi è che gliela dà? E questo è molto affascinante che il fatto misterioso, il fatto che si dia a un pianeta un nome, Giove, e poi è veramente Giove, è Zeus, cioè noi possiamo prenderlo in considerazione nell'astrologia proprio come se fosse quel dio e tenere conto della mitologia proprio greca, proprio delle storie, delle leggende che ci sono state tramandate e che sono antichissime per capire il pianeta. Questa è una cosa eccezionale. Altra cosa eccezionale è che diventa una funzione psicologica, ha un valore psicologico dentro di noi e ha un valore, una ricaduta anche negli eventi perché noi possiamo fare temi natali di qualunque evento e questo è veramente incredibile quello che fanno i pianeti. Quindi, funzioni psicologiche, dei pacchetti di energia come nella fisica quantistica. Ora, questi pacchetti non possono essere tutti, in tutte le case, in tutti i settori, sono limitati, sono dei pacchetti, effettivamente, è un fatto, sono discreti, cioè nel senso che sono dei pezzetti, non è un fatto che può dilagare, andare in tutte le direzioni, sono come dei regali di Natale, sono come regali che ci fa la natura. Ognuno di noi ha le sue capacità, i suoi talenti, ha le sue virtù. Non tutti siamo, non possiamo avere tutto dalla vita, non possiamo essere belli, bellissimi, ricchissimi, intelligentissimi, avere tanti soldi, essere fortunati in amore, essere fortunati al gioco, essere fortunati in qualunque cosa. Sì, ce ne sarà, ci sarà qualche persona nel mondo, una persona su un miliardo che ha un sacco di, che ha tutto, e uno pensa, vabbè, se la trovi, forse la pesti, perché la vuoi picchiare, perché saresti invidioso che abbia tutto dalla vita. In quel caso, se dovesse esistere, sempre messo che esista, dovremmo guardare il suo tema Natale e forse vedere tutti i collegamenti, le relazioni, avrebbe probabilmente tante interazioni fra i pianeti che la rendono particolarmente fortunata, però generalmente ognuno di noi ha una virtù in particolare. Ronaldo è un bravissimo calciatore, ma non è un pilota di Formula 1, non è un tennista, non è Roger Federer, e Roger Federer non è Ronaldo, non si può fare tutto nella vita. Roger Federer non scrive libri di filosofia, così come non lo fa Ronaldo. Ronaldo è fortunato in amore e probabilmente sembrerebbe, anche se poi il gossip ci dice che, non so, scapparello, non si sa bene, insomma, non è molto importante, insomma, comunque ha tanti soldi, eccetera. comunque non si può avere tutto tendenzialmente, è così, la vita è anche limitata e noi siamo determinati anche dal limite fisico, anche proprio della vita in sé, no, che è corta, non possiamo fare tutto nella nostra vita. La cosa importante da sottolineare, anche così, quasi al di fuori dell'astrologia, ma sempre un po' all'interno, è che ognuno di noi comunque ha un talento straordinario. Tu che mi stai ascoltando hai un tuo talento, hai una tua potenza, hai un tuo daimon, un tuo demone, come direbbe Platone, cioè un tuo desiderio, che se non hai ancora sviluppato, devi assolutamente svilupparlo, come direbbe invece Lacan, cioè bisogna diventare se stessi, come dice Nietzsche. E questo è la potenza che ognuno di noi ha, la potenza di esistere, come potrebbe dire anche qualche altro filosofo, Michel Onfren, la potenza di esistere. Ognuno di noi ha una potenza dentro di sé, un fuoco, sul quale bisogna soffiare e buttarci dentro legna. Ognuno di noi, anche se è limitato in tante cose, ma può diventare un eroe, un eroe come si intende nelle narrazioni, nelle storie. Ognuno di noi è eroe della sua vita, è protagonista della sua vita, protagonista di una fiaba, protagonista di una storia. Tutti noi. E questo ce lo dice anche l'astrologia, perché ogni segno è un eroe. Io ho scritto in qualche momento in Facebook, nella mia pagina Facebook, qualcosa a proposito del fatto che siamo tutti eroi, qualcuno mi ha chiesto sì, ma quali sono i segni più eroici. Ma certo, puoi dire che l'Ariete è eroico, per certi motivi, è leone, lo è in modo... Ma tutti i segni sono eroici, cioè tutti i segni sono protagonisti, ogni segno ha la sua narrazione, la sua fiaba, siamo tutti al centro dell'attenzione. Questo è importante ricordarlo anche dal punto di vista astrologico. Ognuno di noi deve sviluppare potentemente quello che è, perché siamo qui per cercare di essere felici. Questa è una cosa importantissima. questo lo dico un po' tra parentesi. Allora, allora, comunque, i regali, come a Natale, che noi riceviamo sono anche limitati, a meno che non sei figlio di Berlusconi, che ti regala lo yacht, ti regala il labrador, ti regala mille cravate, non so, gli armanti, scorghessia, vabbè, per dire, ma forse poi non ricevi dei regali che ne so, i motivi psicologici, forse sì anche, però bisogna vedere. comunque, ognuno di noi, nella nostra esperienza, a Natale, ha ricevuto, quando era piccolo, nel nostro mondo occidentale, se stiamo, in famiglie, non dico benestanti, ma bene o male, che hanno un po' di soldi, hanno ricevuto dei regali, ma non tutto, forse quello che... volevo il trenino, invece ho ricevuto solamente, che ne so, un giocattolo, che anche volevo, ma non tutto quello che volevo, eccetera, eccetera. Quindi, non puoi avere tutti i regali. I regali, poi non possono essere tutti indirizzati, in un solo settore. Allora, i regali, i pianeti sono funzioni psicologiche, sono divinità, sono pacchetti luminosi, come i quanti, nella fisica quantistica, sono dei pacchetti regalo, e vanno a finire in certe case, si concentrano in certe case. Ora, in generale, noi abbiamo un tema natale, se voi guardate il vostro, probabilmente i pianeti sono abbastanza disposti, in un modo, diciamo, vagamente disordinato, un po' dappertutto, sono qui nel cerchio. Allora, questi sono i regali, e questo cerchio siamo noi, la nostra individualità, la nostra personalità. Ricordiamoci anche sempre, cosa molto importante, che noi abbiamo tutto, noi abbiamo dentro di noi tutti i segni, perché noi siamo questo. Quindi, anche se tu sei dei pesci, e non sei del toro, ma sei anche del toro, perché il toro è dentro di te, in un modo o nell'altro. il tuo mercurio non è ben sottolineato, ma ce l'hai comunque. Noi abbiamo tutto dentro di noi. Questa è una cosa molto interessante, che anche va ricordata. Comunque, i pianeti sono spesso distribuiti, in una maniera abbastanza, così, un po' caotica, nel tema natale, che poi, se la guardi, diventa qualcosa, un fiore, si apre, se lo studi, vedi questo fiore apparire davanti a te. Allora, i pianeti, i regali, sono concentrati in certi settori, più che in altri. Allora, se una persona ha tanti pianeti, che ne so, nella settima casa, adesso facciamo che questo sia un tema natale, partendo da qui, questo è l'ascendente, questo è il discendente, come si fa quando si ha un disegno, lo si può fare a mano, ma non lo si fa più, va col computer, no? Va in un sito, il discendente, scusate, l'ascendente è sempre a sinistra, e il discendente è qua. Questa è la prima casa, seconda, terza, quarta, eccetera. Questa è la settima casa. Metti che tu abbia tanti pianeti nella settima casa, che è quella dell'alterità, del matrimonio, della coppia. Che cosa significa? Beh, probabilmente che sei molto, anzi, non probabilmente che sei molto concentrato sulla coppia. La coppia è importante. Poi, naturalmente, bisogna vedere tutto e capire esattamente come, in quale modo, quali sono le sfumature, però lì ci sarà tantissimo di te. Oppure, tantissimi pianeti, nella quarta casa, che è quella della famiglia, sarà una persona per cui, la famiglia è tutto, che la famiglia ruota attorno a te, i figli, il marito, oppure la moglie, la casa, la casa da curare, da mettere a posto, tutto da curare, curare la famiglia e la casa. Questi sono i significati della quarta casa. Quindi, se hai tanti pianeti concentrati in un luogo, le tue energie vanno in quella direzione, i pianeti segnalano il settore nel quale tu sei concentrato. Ma questo non vuol dire che se una casa è vuota, non esista quel settore. Se tu hai la terza casa vuota, che è quella della comunicazione, della relazione sociale, e hai tanti pianeti nella quarta casa, nella settima, quindi se sei una persona soprattutto interessata alla famiglia e alla coppia, non vuol dire che non comunichi, ma tutti comunichiamo. Ritornando al discorso di prima, tutti noi abbiamo tutto. Certo, comunicheremo a modo nostro. Naturalmente, come bisogna fare? Adesso qui lo dico velocemente per capire esattamente come. Allora, la terza casa, visto che rimanda, il cosignificante dei gemelli, rimanda ai gemelli, pensando alla struttura dei gemelli, soprattutto nei gemelli, è importante Mercurio, il postino degli dèi, la comunicazione, bisogna andare a vedere nel tuo tema latale dove si trova Mercurio, e vedrai esattamente come comunichi. Avrai un tuo settore, un tuo modo di comunicare particolare, ma al di là di questo, rimane il fatto che comunicare comunichi. Anche se hai la settima casa vuota, che è quella del matrimonio, non vuol dire che non ti sposi, ma ti puoi sposare tranquillamente, eccetera, eccetera. In realtà abbiamo sempre tutto, solo che ti concentri di più su una certa cosa, come Ronaldo. Ronaldo gioca a calcio, e quindi ha un certo settore, il suo settore, il campo da calcio, e poi è ricco, ma forse ogni tanto, adesso dico così, in un modo un po' pittoresco, ma ogni tanto ha un'idea filosofica. Tutti noi ce ne abbiamo, di idee filosofiche. Ogni tanto pensa a qualcosa di filosofico, non scrive un libro, ma ha anche quell'aspetto. Ogni tanto, forse, che ne so, gioca a tennis, anche se non è Roger Federer, eccetera, eccetera. Adesso per dire, nel senso che noi siamo tutto, abbiamo tutto, solo che in certi settori siamo più concentrati. I pianeti ci dicono dove siamo più concentrati. Ora, prima cosa, ci sono tre punti, per quel che riguarda le case vuote. La casa vuota, va presa, scusate, la casa vuota, segno vuoto. Adesso le prendo in considerazione sovrapposte, diciamo così. Va presa in considerazione oppure no? Ma certamente. Allora, se tu hai la terza casa vuota, e nella terza casa hai la riete, e non ci sono pianeti, che cosa devi pensare? Devi prendere in considerazione certamente il segno della riete. Ora, devi conoscere il senso della casa, in questo caso la comunicazione, l'aspetto sociale, e il senso del segno. Allora, una persona che ha la riete nella terza casa, comunicazione, è una persona che si esprime come in società, in un modo caloroso, come tipico della riete, esplosivo, pieno di brio, di fuoco, di energia, è proprio positivo, dai facciamo questo, tanti abbracci, tanta energia, calore umano. Poi a volte anche di grande calma, attenzione, perché la riete ha questa ambivalenza, in realtà la riete è molto molto calma, quindi una persona in realtà, che la riete nella riete, io sto dicendo così, ma non è che si agita, è calma, tranquilla, ma ha molta molta energia, ed è una persona molto parlante, che ti sta accanto nei momenti di bisogno. Può essere anche brusca, come tipico della riete, ci sono più sfumature. Questo è un esempio, e se hai la terza casa vuota, e hai il cancro dentro nella terza casa, beh, il cancro è un segno infantile, quindi ti esprimerai in un modo abbastanza infantile, sarai un po' anche spaurito rispetto all'ambiente sociale, cercherai un po' di chiuderti un po' nel tuo guscio, come tipico del cancro, granchio, che si mette dentro il crostaceo, nel suo carapace, per proteggere la sua tenerezza. e la gente avrà anche forse una certa simpatia per te, proprio per il tuo modo infantile di essere. Può essere, e quindi ti coccola, perché hai un modo di fare così, un po' bambinesco, tante volte questo suscita simpatia, suscita tenerezza, e questo nella terza casa. Quindi naturalmente è molto importante tenere conto del segno. Ora, bisogna capire i segni, bisogna sapere i segni. Guardate il mio canale, oppure andate a leggere un libro, oppure guardate qualunque altro astrologo, imparate i segni, se voi capite il segno, capite anche come funziona all'interno di una casa, anche se vuoto. Quindi effettivamente c'è, solo che è un po' più leggera la cosa, nel senso che là dove ci sono i pianeti, lì c'è maggiore peso, dove non ci sono i pianeti, c'è maggiore leggerezza, si dà meno importanza a quell'aspetto. Non è fondamentale per la tua vita. Se per me è importantissima la famiglia, è importantissima la famiglia. Io faccio il mio lavoro, torno a casa, accarezzo la testa dei miei figli, guardo la televisione insieme a mia moglie, eccetera, eccetera. L'aspetto sociale, per esempio, se non ho niente nella terza casa, forse non mi interessa così tanto. La mia vita ruota tutta attorno alla famiglia, sono tanti pianeti qui nella famiglia. Se invece ho tanti pianeti nella terza casa, che è quella della comunicazione, non ho niente nella famiglia, forse non ho una famiglia, sono single, mi interessa stare in giro, nei bar, nei ristoranti, al teatro, al cinema, girare, stare in mezzo alla gente, e la famiglia non mi interessa così tanto, anche se ce l'ho, forse non gli do così tanta importanza. i miei figli crescono un po' da soli, per esempio, se sono un padre oppure una madre, me ne sto in giro, soprattutto in mezzo, con le mie amiche, se sono una donna, oppure con i miei amici, oppure anche il contrario. Insomma, ci sono queste differenze. Quindi ci si concentra in punti diversi. Il segno vuoto tende ad essere più vaporoso, leggero. Questo è un aspetto. Un altro aspetto importante che va considerato, il secondo punto, è quello delle opposizioni. Allora, c'è un segno da una parte, a distanza di 180 gradi, c'è il segno opposto. Naturalmente, questo discorso lo si può fare anche per il segno che è lontano 90 gradi, cioè quando c'è una quadratura. Mi soffermo di più sui 180 gradi perché è più significativo, però tenetelo conto, prendetelo anche in considerazione quando c'è una quadratura. Ma nell'opposizione è più forte. Allora, se una casa ha dei pianeti, uno o più pianeti, e l'altra casa, quella opposta, lontana a 180 gradi, è vuota, allora lì c'è uno squilibrio, come proprio nella bilancia, il segno della bilancia, ci sono i due piatti, così, e c'è un piatto in cui pesano tanto, pesa tanto, e l'altro si alleggerisce e perde importanza, si vaporizza, perde di significato. Per esempio, se facciamo che questa sia la prima casa e questa è la settima, ho tanti pianeti qui nella prima e questa casa è vuota, la prima è quella dell'io, quindi do molta importanza a me stesso. potrei essere un attore, potrei essere una superstar della canzone, potrei essere un... ci sono tante superstar, cioè ci sono tante pop star che hanno pianeti importanti, attori, le persone che fanno spettacolo hanno quasi sempre pianeti lì, perché è la casa proprio dell'io, e qui c'è proprio il sole, la luce, che parlando di, prima dicevo, la luce e il sole, e qui c'è proprio i riflettori puntati addosso, però anche se non sei un cantante, eccetera, sei una persona molto concentrata su se stessa, e se non hai pianeti qui, il matrimonio non ti interessa così tanto, non vuol dire che non ti sposi, potresti anche sposarti, ma non è quello il nocio, la cosa importante della tua vita, sei più importante tu, i tuoi sogni, la tua persona, dipende anche dai pianeti che hai, sei venere qui, sì, l'amore è importantissimo, ma è qualcosa di interiore, non è nella coppia, ce l'hai dentro, se tu hai il sole qui, l'individuo che conta sei tu, non così tanto l'altro, questo però, ripeto, non significa che tu non ti possa sposare, forse ti sposi, ma probabilmente è abbastanza facile che poi ti divorzi, stai per un po' e tendi ad essere solo alla fine, certamente, perché questa casa perde molta potenza, viene come risucchiata, già in sé, il segno e la casa vuota, il segno vuoto, la casa vuota, hanno una loro leggerezza, però, se poi ci sono anche i pianeti nell'altra parte che fanno da contrappeso, allora perde ancora di più, ancora più potenza, e questo succede, ecco, bisogna tenere conto di questo, è molto importante, oppure, per esempio, se tu hai tanti pianeti, per esempio, adesso partendo sempre dall'idea che questa è la prima casa, seconda, terza, quarta, quinta, sesta, questa è la nona casa, che è quella del sagittario, quella del viaggio, dello spostamento, e anche del professore, universitario, eccetera, mettiamo che questa sia molto piena, e la terza casa sia vuota, che cosa succede? Che tu, la terza casa, che è quella dell'aspetto sociale, non gli dà importanza, quindi esci di casa, adesso esagero, esci di casa, sali subito sul treno e parti, vai subito all'aeroporto e parti, prendi l'automobile e te ne vai, perché vai nel lontano della nona casa, non ti interessa l'ambiente sociale, non ti interessa il pettegolezzo sotto casa, il bar, il ristorante, il cinema, non mi interessa, io voglio andare lontano, oppure esco di casa per andare a insegnare, a scuola, a liceo, oppure all'università, non voglio stare a chiacchierare, no? sotto casa, e poi può essere il tuo lavoro, oppure al contrario, sei tra i treni qui e tochi nella nona casa, esci di casa per andare proprio al bar e per andare al ristorante, per andare al teatro, per andare al cinema, per stare nella tua città, in ambienti familiari che ti sono consueti e in cui sei tranquillo e poi sei anche un personaggio, perché attenzione, chi va lontano, se è gittà, adesso questo lo aggiungo, non è un personaggio, cioè se tu vai, tu che sei un personaggio nel tuo quartiere però vai in Cina, non sei più nessuno, no? Cioè se Tiziano Ferro vai, adesso non so, forse Tiziano Ferro è famoso anche in Cina, ma credo proprio di no, Laura Pausini, vabbè famosa dappertutto, però se va in Cina probabilmente va per strada, non la riconosce nessuno, anche Tiziano Ferro, per dire, no? Mentre in Italia se c'è in giro Tiziano Ferro la gente, ah fammi un autografo, facciamo un selfie, eccetera, no? Così, no? Quindi, adesso ho perso un po' il filo, però per dire che la terza casa, se tu hai tanti pianeti nella terza casa, tu stai, sì, nel tuo ambiente, nel tuo ambiente circostante, mentre la nora casa non sarà così importante, non è importante il lontano, non è importante viaggiare, non è importante neppure fare discorsi importantissimi ad alto livello. Allora, qui c'è effettivamente questo punto di cui bisogna tenere conto, cioè, di questo sbilanciamento, di questo squilibrio che si crea quando i pianeti sono lontani, 180 gradi. manca un terzo punto. Il terzo punto è quello dei pianeti lontani, cioè, scusate, dei segni lontani fra di loro, 180 gradi, tenete conto anche della quadratura, 90 gradi, ma soprattutto dei 180 gradi, quando tutte e due sono vuoti, tutte e due vuoti. Che cosa si... Ecco, qui è interessante, quando sono ambedue vuoti, diciamo che quel settore della vita, che è un asse, perde valore, non è importante, non ha peso, non ti preoccupa anche, tra l'altro, il che è pure una fortuna. Può sembrare strano, ma è un altro tipo di fortuna, diciamo un po' orientaleggiante, un po' zen, in un certo senso, che non è la fortuna di avere i pianeti dalla parte dei soldi o i pianeti dalla parte del successo, dell'amore, cioè, è un altro tipo di fortuna. Quel tipo di argomento non ti pesa, non ha tanto rilievo. Faccio un esempio molto preciso, la seconda casa, facciamo che questa sia la seconda casa, facciamo che sia vuota, la seconda casa è quella dei soldi, delle finanze, tu nasci e i tuoi genitori forse hanno una casa che ti lasceranno, hai dei soldi di base, cresci in un certo tipo di ambiente economico, sei ricco, povero, insomma, la seconda casa rappresenta i soldi che hai di base, mentre l'ottava casa rappresenta varie cose, anche il mistero, l'esplorazione, del buio, di ciò che è sconosciuto, dell'ignoto, è anche la casa della cosiddetta della morte, ma questo non deve spaventarvi, la morte, anche morte, risurrezione, questo è il significato dello scorpione, non rappresenta solo la morte, basta, così, perché la morte c'è una sola volta nella vita, mentre la morte e la risurrezione c'è tante altre volte. va beh, ma questa è un'altra questione, voglio parlare dei soldi, l'ottava casa anche rappresenta i soldi, la seconda casa, l'ottava, sono relazionati i soldi, l'ottava casa è l'eredità, sono i soldi che ti arrivano anche attraverso delle assicurazioni, per vie traverse, e poi l'eredità, affinché ci sia l'eredità qualcuno deve morire, infatti in questa casa, quella dello scorpione, il simbolo M, in italiano almeno questa M è abbastanza significativa, morte anche in altre lingue, allora, è necessario che qualcuno muoia, perché ti lascia i soldi, quindi anche quella casa è la casa del denaro, ma se l'ottana casa è vuota, e la seconda casa è vuota, che cosa significa? Significa che questo elemento, quello del denaro, per te non è tanto importante, vuol dire, ma come non è importante? Vuol dire che se hai pochi soldi, te la cavi, puoi averne anche pochi, perché non hai dei pianeti importanti, o forse ce li hai ogni tanto, forse a volte ne hai anche abbastanza, ma anche se ne hai tanti, non te ne glori, non ti interessa così tanto, non sei la persona che ha bisogno di comprare un sacco di cose, che dà tante importanze ai soldi, quando non ne hai, va bene, e quando, esagero, e quando ne hai, va bene pure, ma non, non pensi che sia lì il centro della tua vita, pensi ad altre cose che sono più importanti del fatto di avere denaro e comprarti un sacco di cose, quindi la cosa tende ad essere un po' evanescente, a perdere di significato, non gli dai così tanto peso, qui siamo veramente a livello di piani diversi, ci sono cose messe in primo piano, là dove ci sono i pianeti, in un secondo piano, per esempio là dove c'è una casa vuota con opposta, un'altra casa con i pianeti contro, in opposizione, e poi c'è un altro piano ancora più alleggerito, dove ci sono due case, tutte e due vuote, opposte tra di loro, eventualmente anche quando c'è una quadratura, e quindi là dove c'è questa vuotezza, in fondo non c'è un problema, che è una sorta anche di estasi, dopo tutto, esagero un pochettino, una sorta di nirvana, volendo essere un po' così sempre orientali dell'astrologia, perché quell'argomento non è un problema nella tua vita, hai pochi soldi, non è un problema, nei tanti, non è un problema, avere anche tanti soldi può essere un problema, attenzione, perché devi gestirli, se ne hai tantissimi, non è un problema, nei pochi, nei tanti, e la cosa è quasi indifferente, esagerando, esagerando, ma la tendenza è quella, ecco questa è una cosa che va anche giunta, spero di essermi spiegato bene, anche perché in definitiva questi argomenti così semplici alla fine sono quelli più complessi da spiegare quasi, mi viene da dire, perché effettivamente non sono così semplici, quelli elementari sono quelli che di base e quindi sono molto importanti, quindi la sireneta che mi ha sussurrati, ha fatto bene a dirmi di fare questa cosa, bene, spero di essermi spiegato abbastanza bene, anche se a un certo punto ho perso un po' il filo, però spero di essere stato chiaro, vi saluto e siate molto molto felici, alla prossima volta, ciao!